I 15 gennaio sono state annunciate le candidature agli Oscar 2015. Mentre dovremo attendere fino al 22 febbraio per conoscere finalmente i vincitori, Gamesurf.it continua la sua copertura dell'evento, raccontandovi attori, registi, scrittori e film in carica, con tanto di pronostici. Dopo i migliori interpreti in ruolo di supporto è il turno delle migliori attrici non protagoniste. La regina degli Oscar Meryl Streep si ritrova in grande compagnia vista la caratura delle candidate di quest'anno. Patricia Arquette per Boyhood, Laura Dern per Wild, Keira Knightley per The Imitation Game, Emma Stone per Berman e Meryl Streep per Into The Woods. La nostra redazione non ha saputo esprimere un giudizio unanime, segno che il livello è davvero alto e scegliere un'unica vincitrice sarà un compito molto arduo. Nonostante l'ottima performance di Emma Stone e l'ormai consolidato talento di Meryl Streep, la recitazione di Laura Dern sembra essere davvero una spanna sopra tutti. Fra le candidate all'Oscar della categoria, Emma Stone è invece la più giovane di questo 2015. Il fatto di aver lavorato per Woody Allen e la sua età anagrafica potrebbero essere per la Stone due carte vincenti. Patricia Arquette, dal canto suo, rimane tra le favorite e Meryl Streep, per quanto sempre brava, alla diciannovesima candidatura potrebbe lasciar spazio ad altri interpreti. Sulle pagine di Gamesurf.it trovate le altre nostre previsioni, venite a trovarci e a dirci cosa ne pensate.